Questo è V-Star Universe, mentre questo è Zenith Regale. Il primo è in lingua giapponese, costa circa 10€ ed il pull rate è garantito. Il secondo è in lingua italiana, costa circa 7€ ma il pull rate non è garantito. E noi cosa troveremo? Sbustiamo! Guarda le nuove offerte su Game Over 3 Video, link nel primo commento. V-Star Universe T.E.V.U.L, Registeel, Burgeist, Manafy, Bacino di Magma, Level Ball... Uuuuh, Dialga V-Star! Dietro... Uuuuh, non ci posso credere, oh mio Dio, la Secret Rare! Legge Adria di Camellia! Dietro, Miuolo ed infine... L'Energia Secret Rare, ma che pacchetto è? Zenith Regale, Energia, Aspiratore Perduto, Lairon, Amicia Sea, Helioptile, Vulu, Shinx, Puncham, Snorunt, Oranguru Reverse ed infine... Zama, Zenta, Viastro, Bellissimo!